Nel 2008 le imprese del vetro erano 263, in questi anni di crisi settore ha avuto un crollo verticale, arrivando a 140. Numeri davvero che fanno paura. Una soluzione per evitare il peggio la stanno ipotizzando la Regione Veneto, il Governo e la città metropolitana, ed è quella di riconoscere a Murano una zona franca. Questa potrebbe essere una cosa molto importante per chi andrebbe a riconoscere a Murano uno status completamente diverso e potrebbe riportare imprenditoria e riqualificazione. L'arte del vetro di Murano è una realtà che non può essere copiata, così atteso da tempo è arrivato il marchio Vetro Artistico Murano, una vera e propria carta d'identità del manufatto che ne garantisce l'assoluta originalità, l'unicità ed il valore del processo creativo. Finalmente abbiamo uno strumento validissimo di tracciabilità, uno strumento che ci permetterà in maniera inequivocabile di segnalare in maniera netta e chiara il prodotto originale di Murano. Una vera e propria lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleare dei prodotti realizzati al di fuori dell'isola che nulla hanno a che vedere con le opere d'arte create da artigiani, maestri del vetro. È giusto che una persona che intende comprare un oggetto di questa squisitezza abbia la capacità di sapere se viene fatto a Murano e se viene fatto da artigiani di Murano. Purtroppo l'80% dei vetri che si trovano in giro anche qui a Venezia sono di provenienze dubbie, arrivano dall'est Europa, arrivano dalla Cina. Uno può anche acquistarli con la consapevolezza che non sono di Murano. Il contrassegno realizzato seguendo le più moderne tecnologie consentirà all'utente finale di ripercorrere tramite smartphone, tablet e PC l'intera storia del prodotto ricostruendone il processo di creazione. Ha sette sistemi di tracciabilità, tra cui il più importante è quello che viene fatto attraverso uno smartphone con QR code e poi una carta filigranata. Insomma può essere equiparabile ad una nostra moneta, all'euro, insomma per quello che ha all'interno. In questi anni il vetro di Murano è il manufatto più copiato, basti pensare che solo un quarto delle filiere produttive e commerciali risulta essere prodotto nell'isola. Questo marchio vuole essere uno strumento di chiarezza, spiega l'assessore marcato, per chi lo compra, ma anche essere una certificazione di qualità perché questi prodotti, dice Perentorio, non sono affatto replicabili.